Forza Lega Abbraccianti! Il prossimo 6 agosto ci ritroveremo nelle campagne del Foggiano per ricordare i nostri compagni e fratelli a Lagi Sisse, a Lidambele, Musa Kande, a Madu Balde e gli altri 12 braccianti morti sul lavoro, caduti sul lavoro nel mese di agosto del 2018 li ricorderemo per ricordare l'insieme dei caduti sul lavoro delle cadute sul lavoro per ricordare la dignità del lavoro e per dire che senza tutele senza sicurezza sul lavoro senza un documento, un permesso per uscire dall'invisibilità senza un contratto dignitoso le lavoratrici e i lavoratori sono costretti a subire qualsiasi forma di sfruttamento o di riccato li ricorderemo per dire alla politica di non latitare e di adottare una riforma della filiera agroalimentare introducendo la patente del cibo per uguale lavoro, uguale salario per un permesso di soggiorno un contratto di lavoro dignitoso per la residenza ma soprattutto per un inserimento abitativo dignitoso uguale lavoro uguale salario uguale lavoro uguale salario uguale lavoro uguale salario